Con quasi un mese di anticipo, la Regione Toscana ha emesso il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali su tutto il territorio regionale. Dall'11 giugno, dunque, inizierà il periodo di alto rischio per gli incendi boschivi che si concluderà il prossimo 31 agosto, come stabilito dalla legge nazionale salvo proroghe. Il divieto che negli anni passati scattava il 1 luglio è stato necessario a causa delle condizioni climatiche attuali per la situazione di siccità che stiamo attraversando e per l'elevato rischio di sviluppo incendi. Assieme al divieto di abbruciamento di residui vegetali come potature, falci o altro, è vietata anche l'accensione di fuochi ad esclusione della cottura di cibi in braceri o barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi va osservato il regolamento forestale. La bancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l'applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia. Dalla regione, infine, viene sottolineata l'importanza di segnalare tempestivamente eventuali focolai al numero verde della sala operativa regionale 842 54 25 o al 115 dei vigili del fuoco.